buongiorno a tutti sono mitico 310.046 benvenuti a live con fortnite giochiamo buongiorno a tutti ok si parte buongiorno a tutti 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 buongiorno buongiorno a tutti buongiorno buongiorno a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Simo Paz. Ciao. Per giocare con me vai su Happy Games e scrivi il mitico 310.000 con altre serie. Grazie. Avviso che ti sei iscritto, bravo. Per iscrivervi al mio canale Twitch, campanella nera e cuore nero, che ho fatto al video o sotto la live. sempre mitico 310.046 10.046 Grazie a tutti. 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 Bravo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.